A me qualche sorriso è scappato, ma lui no, non l'ho visto, in altri tempi era più sorridente. Beh, insomma, credo che percepisca un problema e cerchi di scansarlo, ecco, questo è il nervosismo, cioè il problema è la difficoltà a parlare davvero di quel che ha fatto il governo del fare, perché si fa presto dire governo del fare, poi se ti senti dire fare che cosa, precisamente, cioè precisamente che cosa si è fatto per gli italiani, credo che abbia difficoltà a rispondere. È nervoso anche perché pensava che solo anche un paio di mesi fa, che in queste elezioni regionali noi saremmo stati all'angolo, facendo i conti sulle europee che saremmo rimasti in una riserva indiana di tre o quattro regioni e quindi che lì si sarebbe aperta una prateria nei tre anni successivi, ecco, credo che le cose non si presentino in questi termini.